Sento Palazzo Sant'Avolo affinché qualcosa si muove nel Palazzo di Città e si possa dare alcuna risposta di panopo a crisi e a rinforzarsi. La cosa sicurale è che a questo punto bisogna un'automessa. Nonostante le condizioni di creare un lavoro, quanti sono? Nonostante le condizioni di creare un lavoro, quanti sono? Nonostante le condizioni di creare un lavoro, nonostante le condizioni di creare un lavoro, nonostante le condizioni di creare un lavoro. Ho già detto, che oltre a un piano in Stabilizio c'erano una maniera di riparire, ma in teoria le persone di rinforzarsi. Perciò hanno creato delle condizioni di contaminazione che hanno messo in acqua che sta passando, il Cilio, il Cilio, il Pagliaccio, il Pagliaccio, le condizioni di creare un'acqua di pelle, dell'acqua di acqua naturale. e poi ci proponiamo a vari gruppi, quindi a questa volta daremo noi picchieri di caldo facciamo vedere per poter dire, diciamo, sicilare che senza scoprire, non è affetto a noi, otteniamo questa proposta, se casomai il Comune vuole stanzionare, diciamo, questa nostra attività, visto e considerato che a certomeno caccia un discorso, vero e proprio che i rapporti non escono come i ragazzi, ma anche perché ci stiamo vivendo e noi andiamo sul discorso di un po' lì, Ancora oggi assistiamo, dai giornali ci danno a questo scanto di una minta parte che è maggissima di occupare quello, della caldona che è il lato tanto. Al principio, diciamo, per avere più, questo è considerato. E' una politica che non serve più. Ci proponiamo noi come associazione, come parte politica che ci sono occupati, e quindi, diciamo, questo progetto possa dare. Non sarà solo questo progetto, ma potremo avanti. Tanti altri progetti che possono riguardare, non solo al nostro gruppo di associazioni, ma anche qui ci sono più bella.